Io continuo ragazzi a vedere le partite della Roma e continuare a non capire questa squadra. È incredibile, è incredibile. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Se è la prima volta che passate sul canale, vi raccomando, iscrivetevi per non perdervi niente del calcio in generale, non solo italiano, ma in generale. E partirei parlando, ragazzi, prima dell'Atalanta, che io non ho avuto l'opportunità di vederla, 8-2 con la salernitana. Mamma mia ragazzi, questa è la giornata dei brutti voti al fantacalcio, c'è che con Shesny si è sclerato. Io ragazzi avevo Shesny contro, ha messo in panchina sto figlio della bignotta. Porca miseria, ma proprio oggi lo doveva mettere in panchina Shesny per mettere Audeo poi. Non capisco, questo qua è un previsore del futuro. Poi c'è ragazzi Ochoa che ha preso, mi sa, 1-0, perché si salva un po' per il rigore parato, ma poi ha preso 8-pere. È incredibile. Scalvini, ragazzi, è un giocatore comunque eccezionale. Uno dei migliori, anzi, forse ora come ora, il miglior prospetto tra i 2000 italiano. E qua parte la sciarpata romanista nell'ultimo minuto di recupero. Incredibile ragazzi, cappottone assurdo dell'Atalanta che continua anche quella a non capire. Perché una volta fanno bene, una volta fanno male e alla fine, una volta fai bene, una volta va male, alla fine va tutto a puttane. No, non lo so ragazzi, questa qua è anche quella, è veramente una squadra particolare. Ma comunque questa Roma che vince contro la Fiorentina e per quanto riguarda convince, perché la Fiorentina, a parte qualche sprazzo, ma non ha giocato a differenziare la Roma. E questa Roma, ragazzi, che una volta vince e se lo merita, una volta vince a bocco di culo, una volta pareggia a culo, una volta perde immeritatamente. È strana questa squadra. Vedremo ragazzi se la Diba, la Diba, Dib, Dibala, A, Diba, Dibaba, mettiamola così, Dibala e Tamiabram, comunque la T, anzi no, adesso la Diabr, la Dibabr, vabbè, vediamo così. Se la coppia di Dibala, Abra, può funzionare veramente. Perché alla fine, ragazzi, parliamo tanto, sì, ok, l'abbiamo visto, in alcuni casi funziona, in altri no. Però, veramente, non li abbiamo mai visti veramente, veramente. Adesso mi porta la luce in faccia. Perché Dibala praticamente era sempre rotto. Quindi, è tutto ragazzi, è un punto interrogativo questa squadra. Per quanto riguarda è un punto interrogativo. Oggi fanno bene, vincono, meritati, bravi. Ma la prossima come saranno? Perché questa squadra, ragazzi, la squadra c'è. La squadra c'è, è una questione mentale. È una questione mentale, ragazzi, perché questa Roma, a volte, veramente, è una squadra irriconoscibile. È terrificante. E una volta ti fa le prestazioni come oggi. Adesso a Roma, penso che abbia appena scaval... No, no, è sempre dietro a Razio, è settima. Vedremo adesso come andranno avanti. O è sesta, sesta, forse. Comunque, adesso vedremo come andrà avanti la prossima partita. E se cambieranno già, ragazzi. Perché, veramente, ve l'ho detto, questa qua è una squadra troppo, anche, sul morale. Questa è una squadra moralista. Mettiamola così, chiamiamola così. Moralista. Perché una volta ti possono fare... Benissimo, una volta no. Oggi Dibala brilla. Dibala è sempre, ragazzi, il giocatore decisivo. E fa due gol bravo, ovviamente contro di me, al fantacalcio. Ma, ovviamente, non dobbiamo parlare. Dibala è un giocatore decisivo, come sempre. Proprio a, mettiamola così, marcare le insicurezze di Tami Abram. Tami Abram, ragazzi, che davanti alla porta, in ogni situazione non riesce più a fare gol. La scorsa stagione aveva fatto il devasto. Quest'anno non riesce a metterne dentro una. Si parla di vendita possibile, a parte della Roma. E io, onestamente, se arrivassi in offerta di 80 milioni, lo prendo, lo impacchetto e ciao ciao. Comunque, finisce così. 2-0. Questa Roma vuole provare a prendersi la Champions League. Però, così non si va avanti. Complimenti. Sto facendo, ragazzi, troppo un recap. Parlando adesso, parliamo più della partita. Perché la partita, ragazzi, ha fatto veramente bene questa Roma. Oggi ha vinto, ha vinto e ha convinto. Attaccando e difendendo. Ottima difesa da parte di tre. Smoling, Mancini e... Ghisacru, come si chiama, i Bagnez. Centrocampo, ottimo Bove. Bove, ragazzi, e Tripi sono i giocatori che servono a questa Roma. Non Fratesi. Fratesi, se arrivasse bene, ma non per Bove o Tripi. Oggi fa la sua prima presenza da titolare in Serie a Bove. E convince assolutamente. Questa Roma, ragazzi, anche a centrocampo, abbastanza bene. Qualcosa da migliorare. È la finalizzazione dei tiri. Perché si possono fare 300 tiri, ma bisogna metterne su quei 300 di più. Non puoi fare in una partita 15 tiri e fare due gol. Delle quali l'ultimo è arrivato così, all'ultimi minuti. Perché poi, ragazzi, capita che con altre squadre puoi subire gol. E tu, essendo una squadra che si basa solamente sul morale, sulla mentalità, cadi in depressione e muori. È sempre così, ragazzi, la Roma. Adesso vediamo la prossima partita come saranno. Comunque, buona prestazione questa. Si pensa subito alla prossima. Quindi, per me, questo, ragazzi, è tutto. Io, comunque, vi aspetto domani con un nuovissimo video alle sette del mattino, alle 13.45. Noi ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao.